Dunque dunque, andremo a fare una persona Una persona, come si chiama? Una persona, come si chiama? Ci sono dei disoccupati a un film in cui ci sono dei disoccupati che fanno uno scuoterello per guadagnarsi da vedere Oh si! E come si chiama questo game? Infatti, come si chiama? Bravissimo! Prego qua! C'è la vita, tirami lei un tempo per la supermascione! No, prego! Prego! Si diverta, prego! E quindi noi che teneremo questa canzone potremmo avere questa canzone Esatto, vi vogliamo rivedere un po' Amore! Guardate! Guardate, guardate con lei Facciamo un applauso! Comuniciamo! Mi verà mi torre che viene che comunque piace E all'inizia del suo tipo большomattimento di parte La lingua della gira dopo Metri Sì! Però ci sono tutta spiega L'ikkei dalla vita Non aspetta, non c'è stata Ris教会 Quando c'è l'ise? Ris说 La mia sigla insieme More aspetta Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.